Musica Viaggiava con cento ovuli di cocaina nell'addome, il nigeriano arrestato a domodossola dalla guardia di finanza. Si fingono funzionari di banca e prosciugano il conto di un trentenne e due persone denunciate dai carabinieri domesi. Nel giorno della memoria consegnata in prefettura due medaglie ai parenti di due internati, Renato Colombo e Luigi Morisetti. In tutte le scuole del Vici Oggi il docufilm su Lidia Maximovic con intervista dei nostri studenti, tante le iniziative per questo 27 gennaio. Donare per crescere, parliamo del progetto che sarà attivato al cantiere di Verbagna contro la povertà educativa degli adolescenti. Tanti ospiti e molte immagini, questa settimana Spazio Neve, la trasmissione dedicata agli sporti invernali non dalle 21. Una buona serata dalla redazione di Vici O Notizie. La cronaca in apertura di giornale aveva ingerito 100 ovuli di cocaina. Il corriere arrestato nei giorni scorsi dai finanzieri della compagnia di domodossola in servizio alla stazione internazionale domenese. Se è messa sul mercato, la droga avrebbe fruttato una cifra compresa tra gli 80 e i 100 mila euro. Nell'addome aveva 100 ovuli di cocaina. Il nigeriano arrestato dalla guardia di finanza di domodossola, l'uomo viaggiava a bordo di un treno internazionale proveniente da Basilea e diretto a Milano. I finanzieri nel corso di un controllo hanno notato il passeggero che era senza bagaglio e che aveva un atteggiamento sospetto mentre cercava di mescolarsi con gli altri viaggiatori. Non ha saputo fornire spiegazioni sul suo viaggio e dagli accertamenti fatti con le banche dati, i militari hanno deciso di portarlo in ospedale. Le lastre fatte al sanbiaggio di domodossola hanno confermato i sospetti. Nell'addome dell'uomo c'erano diversi corpi estranei. I finanzieri hanno aspettato che gli espellesse. Si trattava di 100 ovuli di cocaina purissima per un peso totale di 1,2 kg che sul mercato avrebbe fruttato diverse centinaia di migliaia di euro. Un importante risultato raggiunto dalla guardia di finanza anche grazie alla collaborazione con i sanitari del San Biagio. Continua così l'impegno dei finanzieri ossolani che hanno scoperto e fermato diversi corrieri internazionali della droga che resta sempre una delle maggiori fonti di guadagno della criminalità organizzata. Disagio alla circolazione nelle prime ore della mattinata lungo la superstrada dell'Ossola a causa del fondo stradale ghiacciato coinvolti diversi mezzi è successo nel tratto compreso tra Pieve, Vergonte e Anzola d'Ossola in direzione sud. Il primo incidente è stato originato da un tamponamento. Nel secondo caso invece un'autovettura ha sbandato finendo la sua corsa contro il vicino Garreile. Ingenti i danni ai mezzi. Fortunatamente gli occupanti delle auto se la sono cavata con qualche botta e un grande spavento. Vista la situazione del manto stradale Anas ha provveduto immediatamente alla chiusura del tratto in questione. Sul posto è intervenuta la ditta che ha in appalto l'assalatura solo attorno alle 11. La situazione è tornata normale. Nel frattempo però si erano create lunghe code soprattutto di mezzi pesanti. Inutile sottolineare le proteste che la situazione ha sollevato tra gli utenti della superstrada. Anas ha annunciato valutazioni su quanto successo stamane. Hanno truffato un trentennio solano spacciandosi per funzionari di banca incaricati di un servizio per sicurezza. Clienti hanno convinto l'uomo a fare operazioni che hanno portato al versamento di 30 mila euro. L'ossolano si è accorto della truffa solo quando è stato contattato dalla sua banca. Non gli è rimasto che sporgere denuncia ai carabinieri. Truffe online Tre denunce dei carabinieri di Domodossola Il primo caso riguarda una truffa su Marketplace, negozio virtuale di Facebook. L'acquirente aveva pagato un oggetto che non gli era mai stato spedito. Il venditore non aveva più risposto ai messaggi e aveva anche cambiato numero di telefono. I carabinieri hanno indagato, incrociando i dati del bonifico con quelli del profilo Facebook, risalendo all'identità di una donna di Milano. Nel secondo caso, due uomini, un palermitano già noto alle forze dell'ordine e un ligure, spacciandosi per gli addetti del servizio sicurezza di una banca, hanno contattato un trentenne. Con la scusa di alcuni movimenti sospetti, gli hanno fatto compiere alcune operazioni per chiudere il conto corrente. In realtà si sono fatti accreditare sul proprio conto 30 mila euro. Successivamente il trentenne è stato chiamato dal vero operatore della banca, che aveva visto il bonifico e ha capito di essere stato vittima di un raggiro. Grazie al Liban, i carabinieri hanno individuato però i due responsabili e li hanno denunciati per truffa. Covid alla regione Piemonte resta ancora in zona arancione, anche se i dati del contagio e delle terapie intensive migliorano a quanto emerge dal pre-report settimanale. Per il terzo giorno consecutivo, ricoverati in terapia intensiva in calo nella nostra regione, meno due, riporta il bollettino dell'unità di crisi, in flessione, al contrario di ieri anche il dato, per i reparti ordinari. Meno otto negli ospedali, ora i malati più gravi sono 137, gli altri 2.111. Sono stati registrati 16 nuovi decessi, tre nel Novarese e uno relativo a oggi. 11.089 nuovi contagi con un tasso del 14,2% e una quota di asintomatici dell'81,2%. I tamponi eseguiti sono 77.845. In continua crescita il dato dei guariti, in 24 ore se ne contano 16.526 in più. Ed ora apriamo una lunga pagina dedicata alla giornata della memoria e alle celebrazioni a livello locale. Partiamo con la consegna di due medaglie del Presidente della Repubblica a due ex internati, a ritirarle la figlia di Renato Colombo e il nipote di Luigi Morisetti. È stato interessante ascoltare dalla sua voce anche dei ricordi di suo padre, un diario e altri ricordi naturalmente legati alla sfera personale. È un ricordo sempre molto vivo, abbiamo sentito. Certo, molto vivo anche perché fin da quando ero bambina mio papà e mia mamma raccontavano alcuni aneddoti per cui sono cresciuta avendo la consapevolezza di quello che era successo a mio padre e ad altre persone come lui e lo ritenevo un eroe e quando dovevano farmi qualcosa di doloroso pensavo mio papà è stato coraggioso, ha resistito sette giorni in treno e due anni in campo di concentramento e quindi devo molto alla sua testimonianza. Io vi ringrazio, ringrazio veramente per questa medaglia che è un riconoscimento del suo coraggio perché appunto non ha più voluto combattere con i fascisti praticamente perché ne ha visti troppe di cose brutte e quindi ha fatto due anni in campo di concentramento ma non ha perso anche la sua voglia di vivere e anche la sua allegria. Vladimiro Morisetti è nipote di Luigi scomparso recentemente. Di questi fatti della sua vita, di questo periodo della deportazione era vivo il ricordo, ne parlava? Era un po' taciturno, era difficile cercare di farlo parlare. Aveva mantenuto magari qualche rapporto con persone che all'epoca avevano condiviso l'esperienza con lui? A casa non sono riuscito a trovare ma aveva una fotografia che lo ritraeva con un russo però non ci sono stati contatti perché proprio non voleva parlarne. La cerimonia odierna per voi discendenti cosa significa? E' una bella cosa, purtroppo siamo arrivati un po' tardi. Stamattina per tutte le scuole del VCO il docufilm è dedicato a Lidia Maximovic bimba sopravvissuta ai Lager con intervista alla signora Lidia da parte degli studenti del VCO docufilm che tornerà su Azzurra TV anche questa sera alle 21.30 e poi al Maggia di Stresa la posa di due pietre d'inciampo dedicate alla giornata della memoria e all'ecidio del Lago Maggiore. Nella giornata della memoria la messa in onda su VCO Azzurra TV del docufilm è dedicato a Lidia Maximovic con intervista esclusiva alla signora da parte degli studenti del VCO. Stamattina per la prima volta in contemporanea per tutte le nostre scuole. Un'iniziativa unica nel suo genere voluta dall'ufficio scolastico provinciale per permettere a tutti i ragazzi di conoscere la storia della bambina che non sapeva odiare e per riflettere sul dramma della Shoah. Un contributo che sarà in onda anche stasera alle 21.30 per consentire a tutte le famiglie di seguirlo. L'occasione è nata dalla visita della signora Lidia Stresa dopo la tragedia della funivia e dalla volontà del comune stresiano di condividere il video con tutte le scuole della provincia, volontà attivamente supportata dall'ufficio scolastico del VCO che si è attivato per organizzare l'iniziativa. Sempre a Stresa, prima della proiezione del video in questo 27 gennaio al Campus Maggia, l'ex Collegio Rosmini la posa di una pietra d'inciampo inviata dal Ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione Mite in collaborazione con l'Agenzia Dire Dire Giovani. Sulla pietra d'inciampo l'ha scritta La giornata della memoria per non dimenticare accanto una targa che reca incisa a una frase scelta dai ragazzi e dalle ragazze delle classi quinte e che evidenzia le vicende storiche locali legate alla Shoah alle vittime, ai superstiti, ai giusti dell'Ecidio del Lago Maggiore Stresa, 22 settembre 1943 Ricordiamo che l'Ecidio coinvolse nove comuni persero la vita almeno 57 ebrei La cerimonia è stata organizzata dall'Istituto Maggia in collaborazione con la Casa della Resistenza e l'AMPI, sezione vergante un'occasione dal valore educativo e formativo Hanno partecipato gli studenti delle classi seconde e quinte della scuola Questi ultimi hanno presentato i lavori svolti sul tema presenti diverse autorità civili, militari religiose. È stato un importante momento di studio e ricerca storica evidenziato il dirigente del Maggia Fiorenzo Ferrari. Tutti i relatori hanno portato importanti testimonianze racconti, ricerche relative ai loro comuni Si è parlato anche della legge istitutiva della giornata della memoria È stato un mini convegno, ha aggiunto Ferrari Sottolineando anche l'importanza di un'iniziativa di questo tipo in un momento in cui la scuola è purtroppo focalizzata nella gestione dell'emergenza pandemica Gli insegnanti hanno comunque trovato lo slancio per organizzare questo momento a concluso che ha visto i ragazzi molto coinvolti è stata per tutti una bella emozione A Domodossola il 27 gennaio si celebra in Piazza Lager Nazisti Piazza Lager Nazisti a Domodossola è tornata questa mattina ad ospitare la cerimonia a ricordo della giornata della memoria lo scorso anno solo un momento commemorativo in solitaria da parte del sindaco Lucio Pizzi a causa della pandemia così oggi autorità civili, militari e religiose si sono date appuntamento a metà mattina davanti alla Fontana della Pace la sorgente in sasso frutto dell'idea del geometra Mauro Falciola e che da metà anni 90 simboleggia la vita che risorge una sorta di emblema per ricordare a Domodossola la ripartenza dopo l'apertura dei cancelli di Auschwitz e il ritorno a casa di chi ha vissuto quell'orrore nonostante la mattinata fredda una piccola folla si è data appuntamento nel piazzale dell'ospedale nutrita quest'anno anche la partecipazione delle scuole primarie con rappresentanze delle primarie Kennedy, Milani e Calice i giovani studenti hanno portato striscioni variopinti comune la frase scritta per non dimenticare come da protocollo la cerimonia si è aperta con gli onori e gonfaloni poi la posa della corona di alloro quindi il saluto del sindaco Lucio Pizzi ha preso a prestito le parole di Primo Levi per sottolineare l'importanza del momento se comprendere è impossibile ha ripetuto l'amministratore Ossolano conoscere è necessario Pizzi ha parlato della necessità di tenere viva la fiamma del ricordo parole riprese anche nell'orazione ufficiale di Margherita Zucchi curatrice del Museo della Resistenza di Ornavasso e con la quale il comune domese ha collaborato nell'organizzazione della mostra che parla delle leggi razziali e che la città ospiterà dal 19 febbraio al 15 marzo presso il collegio Mellerio Rosmini si tratta della rassegna dal titolo 17 novembre 1938 lo Stato italiano emana le leggi razziali curata da Franco De Benedetti Teglio e nel corso delle celebrazioni per il 27 gennaio Maine ha annunciato l'imminente inaugurazione del monumento che volge lo sguardo verso Israele Maine ha celebrato oggi il 27 gennaio il giorno della memoria la dove vennero prelevate le 16 vittime della strage degli ebrei perpetrata nella notte tra il 22 e il 23 settembre del 1943 uccise e poi gettate nel lago una cerimonia semplice ma partecipata nel rispetto delle norme previste dall'emergenza sanitaria il corteo si è mosso dalla piazza del municipio davanti il gonfalone del comune poi le autorità e gli alunni rappresentanti delle scuole primarie e secondarie del paese attorno alle pietre d'inciampo accanto all'imbarcadero i discorsi del sindaco Fabrizio Barbieri e del dirigente scolastico dell'istituto complessivo del Vergante Luigi Nunziata quindi il pensiero scritto e letto dagli studenti il sindaco di Maine ha poi annunciato che domenica 13 febbraio al mattino sarà inaugurato il monumento creato dallo scultore israeliano Ofer Releuke che rappresenta una testa che volge lo sguardo verso Israele Il giorno della memoria celebrato anche nel Cusi a Orta ricordati Mario e Roberto Levi Sono passati 79 anni ma il ricordo di Mario e Roberto Levi che erano ad Orta ed erano ebrei questa è la loro colpa come quella di milioni di altre persone e quel ricordo a Orta è ancora vivo il comune di Orta ha voluto ricordare questo episodio in occasione della giornata della memoria della Shoah e non solamente però con la cerimonia andando ad accendere come ha fatto il sindaco Giorgio Angeleri una piccola luce per tenere viva questa memoria ma anche con altri eventi per quanto riguarda il futuro sindaco perché è così viva la memoria comunque ancora negli ortesi di queste due persone perché a Orta si è sempre avuto questo senso di rispetto delle persone dell'accoglienza ed è avvenuto da sempre da quando Giulio è arrivato a Orta che era uno straniero che è stato accolto il messaggio che noi vogliamo dare come l'avevano dato Orta ai tempi è quello dell'amicizia del rapporto fra le persone di non aver paura dell'altro di non criminalizzare l'altro per questioni di colore di pelle di religione o di origine noi dobbiamo mandare questo messaggio e continuare a passare questo messaggio anche alle nuove generazioni perché se dimentichi tu dimentichi anche l'umanità per il prossimo anno l'amministrazione comunale orteese vuole ricordarli con una pietra di inciampo e anche non solamente con quello probabilmente certamente noi abbiamo già fatto la richiesta per avere la pietra di inciampo a Orta in modo che chiunque passi di lì camminando non perda la possibilità di comprendere che qui c'era stato qualcuno che è stato portato via ucciso soltanto per una questione di colori di pelle di religione di origine e noi vogliamo coinvolgere anche i ragazzi in questo i ragazzi delle scuole medie soprattutto che possono comprendere che studiano anche gli eventi della seconda guerra mondiale e anche i ragazzi delle scuole elementari e medie di Armeno hanno voluto ricordare la Shoah e lo hanno fatto con una mostra che aperta oggi resterà allestita per tutta la prossima settimana ed è visitabile su prenotazione ricostruita anche la vita di Primo Levi e di altri giovani protagonisti di questa drammatica pagina di storia Donare per crescere l'appuntamento del Giovadi con Fondazione Comunitaria VCO parliamo di Insieme Reti Educative per coltivare aspirazioni che fa capo al Fondo Povertà di Fondazione Comunitaria il progetto vuole contrastare la povertà educativa negli adolescenti il suo quartiere generale sarà il cantiere a Possaccio di Verbagna Si tratta del nuovo progetto della nostra associazione e di una rete di altri partner che sono coprotagonisti all'interno di questo nuovo percorso la possibilità ci è data da Fondazione Comunitaria VCO che ha appunto attivato questo fondo che si chiama Fondo Povertà e ha l'obiettivo di incidere su tutte le diverse forme di povertà che caratterizzano oggi la nostra società una di queste è la povertà educativa e è la povertà a cui si rivolge questo percorso i partner della rete sono Associazione 21 Marzo che è la più numerosa diciamo associazione giovanile del nostro territorio e poi ci sono due cooperative la Bitta e Universis e il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano il tutto con anche il sostegno dell'amministrazione comunale il centro diciamo delle azioni di insieme sarà lo spazio giovani il cantiere e in particolare si cercherà di sviluppare uno spazio adolescenti in particolare all'interno di questo nostro luogo che è già attivo ma che molto spesso si rivolge a target che magari più facilmente vengono attratti da questo tipo di proposte l'obiettivo invece di insieme è di andare a coinvolgere un target molto particolare che è quello della fascia 13-17 e ancora più particolare perché è un target che magari viene da fasce generalmente più emarginate all'interno della nostra società quindi magari famiglie che hanno difficoltà socio-economiche parallelamente abbiamo scelto anche di inserire un'attività di progetto che invece va a rispondere ai bisogni dei genitori quindi fornisce un sostegno genitoriale e questa parte invece verrà realizzata verso il nuovo centro Sant'Anna e allora qui ad esempio che cosa farete con i ragazzi? qui nello spazio cantiere sono previste alcune attività che da un lato vanno per esempio a offrire un supporto psicologico perché è emerso da un questionario che abbiamo sottoposto a più di 500 ragazzi l'anno scorso il progetto Cant for Ideas è emerso che c'è un forte bisogno di un supporto psicologico informale questo potrebbe significare da un lato che forse i servizi esistenti non sono ancora ben pubblicizzati o forse che da un lato come tanti altri aspetti della vita adolescenziale c'è bisogno di una forma più informale e accessibile appunto anche per i ragazzi l'altro aspetto sul quale noi vorremmo incidere è il supporto alla didattica che spesso è specchio di un'altra forma di diseguaglianza per esempio per quanto riguarda appunto il mercato delle ripetizioni che sappiamo essere non per tutti e quindi quello che vorremmo offrire qui è un supporto all'aiuto dei compiti che appunto preveda il servizio un po' uno a uno e quindi l'accompagnamento e la costruzione di una relazione che diventi anche appunto di riferimento per la crescita in generale del ragazzo la nostra programmazione stasera alle 20.35 in onda l'ottava puntata di Storia 4 Zampe qualche anticipazione Marcello Perugini vi aspetta con un bellissimo servizio sui cani meticci e poi con il gatto Simba alle prese con una ferita alla zampa il dottor Federico Cavalli visita l'azienda agricola della piazza Masera per una gravidanza sospetta ma ci sarà anche spazio per il coniglio di ora alle prese con la sterilizzazione il veterinario risponde a come comportarsi con un nuovo amico a quattro zampe le repliche sono in onda domani venerdì alle 13.30 e alle 18.45 e alle 22 di domani invece l'appuntamento è con Over TV la trasmissione a cura di Marco Zacchera che torna per parlare di storia e vi ricordo anche le repliche la replica sabato alle 13.30 ben ritrovati cari amici a questo appuntamento settimanale sulla storia locale e non solo perché ci siamo allargati un po' a tutto il Piemonte tema della settimana gli inizi del risorgimento che cosa è successo in una veloce retrospettiva dalla fine del periodo napoleonico fino alla prima guerra di indipendenza la costituzione che viene data al Piemonte lo sviluppo industriale la volontà di crescere e che farà appunto di queste zone il faro di quella che poi diventerà l'unità d'Italia un appuntamento interessante alla conoscenza e anche alla scoperta magari di tanti dettagli che nei libri di storia non ci sono quindi a risentirci ormai settimanalmente siamo allo sport detto del pareggio 3 a 3 tra Gozzano e Derton a partita disputata ieri sul campo della squadra novarese andiamo a sentire i commenti raccolti nel post partita penso che chi ha assistito alla partita si sia divertito perché vedere 6 gol certamente fa piacere per quello che sono i tifosi gli sportivi diciamo che c'è un po' di rammarico perché essere andati in vantaggio tre volte contro una signora squadra potevamo certamente pensare di poter portare a casa un risultato pieno però i ragazzi hanno fatto il massimo tenendo anche presente che arriviamo da un mese di inattività quindi questa era la prima partita con degli inserimenti nuovi diciamo che prendiamo di buono quello che chiaramente c'è stato dal punto di vista di prestazione e andiamo avanti con la prossima partita parliamo dei nuovi ma i nuovi Amil Gassama diciamo che si è penso che abbia fatto un'ottima prestazione è un giocatore che si spende tanto per la squadra anche in fase di finalizzazione è uno che ci può dare una grossa mano teniamo presente che anche lui è appena arrivato quindi deve entrare negli schemi deve conoscere i compagni non giocava una partita da parecchio tempo quindi penso che sia stato un approccio estremamente positivo Turato che è il 2003 anche lui che è arrivato ultimamente è un giovane di buone prospettive e chiaramente hanno esordito subito contro una squadra importante quindi diciamo che sono stati subito messi alla prova in un impegno veramente difficile Mister Giovanni Zichella se non fermano al novantesimo si fa avanti 3-3 4-4 5-5 secondo me potevamo fare di più potevamo essere molto più attenti sui tre gol perché prendere tre gol su forse tre tiri in porta forse non ricordo una parata del portiere quindi voglio dire ogni volta che loro si avvicinavano per noi era un pericolo questo mi ha dato parecchio fastidio perché secondo me la parte migliore di questa squadra è la fase difensiva e come ogni giovedì alle 21 circa l'appuntamento con Spazio Neve su Viceo Azzurra TV che torna anche venerdì alle 14.30 e sabato alle ore 18 che puntata che puntata Spazio Neve che torna questa sera ospiti davvero importanti tematiche veramente importanti perché parleremo di cose belle che avranno in futuro nel VCO e di progetti importanti e lo faremo con un ospite davvero importante il presidente Franco Zecchini presidente del Comitato Regionale Alpi Centrali presidente grazie tante belle cose da dire sicuramente avremo e poi Guidina Dalsasso che è vicepresidente con tanti incarichi che riguardano il VCO e non solo nel Comitato Alpi Centrali ciao Guidina benvenuta perché è la prima volta però è sempre un piacere averti grazie mille per l'invito e poi abbiamo Nicolo Capelli che è il preparatore del gruppo più piccolo dei giovani del centro agonistico domoviano grazie buona serata a tutti sicuramente come detto avremo tante cose da dire io fossi in voi non perderei la puntata a tra poco e così chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale vcioazzurratv.it e le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti grazie per essere stati in nostra compagnia e buona continuazione di serata con i programmi di VCO Azzurra TV Azzurra TV